ciao ragazzi nei video precedenti ho provato per voi incisore laser da 18 watt della svitol in questo video invece desidero farvi vedere un box della atom stack dalle qualità davvero interessanti il libretto di istruzioni è in italiano le immagini sono a colori e le descrizioni sono chiare come potete vedere l'imballo è protetto in modo impeccabile pure gli spigoli sono rinforzati per evitare anche colpi accidentali durante il trasporto ogni singolo pezzo è accuratamente separato e protetto ma vediamo tutti i pezzi che contiene nella confezione c'è tutto il materiale necessario ad un immediato utilizzo del box cavi di alimentazione tubo per i fumi cacciavite e chiavi per l'assemblaggio le viti e ovviamente i pannelli di protezione i pannelli sono protetti da una doppia pellicola adesiva la atom stack con questo box ha pensato a tutto dai micro di sicurezza all'illuminazione vediamo anche se con tutte queste premesse sarà davvero semplice da assemblare questo box si adatta direttamente sull'incisore quindi basta avvitare prima le pareti laterali prima di continuare vorrei farvi vedere lo spessore dei pannelli sono quasi 5 mm di spessore e una volta avvitato ai quattro lati diventa solidale con la struttura dell'incisore nella parte posteriore del box c'è una ventola di aspirazione ma non fatevi ingannare dalle dimensioni perché è davvero performante nello sportello superiore c'è la telecamera grand'angolo che permette di avere una visuale perfetta all'interno anche se come potete vedere con questo box è possibile avere un'ottima visuale su ogni lato per portare fuori la presa usb della telecamera hanno predisposto un foro con guarnizione ermetica quindi anche una eventuale operazione di smontaggio risulterà rapida dopo aver avvitato lo sportello desidero farvi vedere che ci sono dei micro di sicurezza servono per bloccare l'incisore in caso di apertura del coperchio non si può far a meno di notare i bordi arrotondati il coperchio aderisce perfettamente alla struttura e come potete vedere è estremamente compatto e solido a differenza di altri box l'apertura a cerniere robuste in dotazione c'è un cavo ad y che serve per alimentare la macchina e la ventola di aspirazione ha una presa femmina dove verrà inserita l'alimentazione principale l'interruttore permette di accendere e spegnere tutto quindi potete accendere il laser utilizzando solo questo interruttore se volete come dicevo una di queste uscite andrà ad alimentare l'incisore l'altra invece è dedicata alla ventola di aspirazione che se collegata si accenderà insieme all'incisore le schede di controllo dei laser sono già predisposte per alimentare eventuali box comunque in dotazione ci sono vari cablaggi per adattarsi alla maggior parte delle schede quando si accende la macchina si accendono anche le luci led che rimarranno sempre accese finché l'incisore è alimentato ho collegato separatamente la macchina e la ventola per farvi sentire il livello di rumore dopo aver controllato il regolare funzionamento possiamo calibrare la telecamera per la calibrazione c'è un cartoncino da posizionare sopra il piano di lavoro basta seguire le istruzioni date dal software che indicherà dove spostarlo per renderla operativa la ventola di aspirazione è davvero potente se vogliamo leggermente rumorosa ma date le sue prestazioni direi che è qualcosa di trascurabile guardate come sposta l'intero manuale ho provato a saturare l'intero box col fumo ma una volta accesa l'aspirazione basta qualche secondo per aspirare tutto cerco di farvi vedere ancora meglio il flusso di fumo per incidere con precisione su targhette oppure piccoli compensati come quelli che sto posando sul piano di lavoro la telecamera è utilissima basta scattare una foto che verrà riprodotta in semi trasparenza sul software con le dimensioni del vostro incisore dopodiché basta inserire le immagini che volete incidere e la precisione in questo modo aumenta notevolmente tra l'altro non è necessario posizionare i particolari da lavorare in modo perfetto perché avrete sempre una visuale sulla vostra griglia millimetrata e saprete esattamente come posizionare i vostri vettori apro solo una piccola parentesi cercate di ottenere una buona precisione durante la calibrazione questo vi aiuterà a lavorare meglio successivamente a questo punto velocizzo il video per farvi vedere come sarà il risultato finale oggi mi sono limitato a fare delle prove rapide perché il video non è sull'incisore comunque posso garantirvi che questo box non solo è bello da vedere ma è davvero un ottimo prodotto illuminazione eccellente anche in locale con poca luce aspirazione incredibile telecamera efficiente e protezione dai raggi davvero ottimale se siete interessati vi lascio il link in descrizione grazie grazie grazie